lettori di soccavo magazine buongiorno siamo alla seconda traversa di via dell'epomeo fuori all'autofficina cocuzza celebre come il nostro articolo come il nostro ultimo articolo della realizzazione delle due auto dei discudetti nel 1987 e 1990 proprio quella del 1987 ripreso da un libro di salvatore bagni e bruno giordano che vi siete persi in cui noi intervistamo proprio il realizzatore enzo cocuzza la nissan micra 2023 è pronta qui dalla seconda traversa per partire alla volta di via dell'epomeo in cui domenica pomeriggio sarà protagonista no non lo so e vi aspettiamo per festeggiare tutti insieme buona giornata e forza napoli